La sicurezza nel porto canale di Pescara deve essere una priorità e quanto ribadito oggi durante la cerimonia di commemorazione delle vittime del mare. La manifestazione ospitata dalla stazione marittima è stata organizzata dal flag Costa di Pescara diretto da Andrea Mammarella in collaborazione con l'Associazione degli Armatori. La sicurezza ovviamente è il problema principale ed è anche quello intorno al quale poi si cercano di trovare delle soluzioni tecniche che purtroppo vediamo che sono difficili da trovare perché dighe forane piuttosto che nuovi interventi, lavorazioni hanno sempre bisogno di essere implementate e migliorate. Oggi commemoriamo i caduti del mare e quindi è proprio la carne viva della comunità che su queste questioni ha sofferto in prima persona e più di tutti. Presente alla cerimonia anche Enzo Del Becchio del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, il quale ha confermato che domani ci sarà un sopralluogo in vista del dragaggio del porto, come deciso in occasione del vertice svoltosi due giorni fa in prefettura, convocato con la massima urgenza per cercare di superare lo stato di impraticabilità del porto canale a causa dell'insabbiamento dei fondali causato dalle recenti mareggiate che ha comportato il dirottamento dei pescherecci verso il porto di Ortona. Domani e dopodomani, lunedì, verrà approntato da questi tecnici per conto della Regione Abruzzo il progetto per realizzare il dragaggio che verrà immediatamente trasmesso all'autorità portuale, già a conoscenza di questi adempimenti, che indirà immediatamente la conferenza dei servizi. Quindi la tempistica dei dieci giorni mi sembra che sia coerente con le attività che stiamo facendo. Quindi entro dieci giorni partirà il mini dragaggio? Entro dieci giorni ci sarà individuata anche l'impresa che effettuerà il mini dragaggio, mettiamola in questi termini, che sarà la prima fase propedeutica, poi anche tutta un'altra serie di interventi. Questa mattina, dopo aver deposto una corona di alloro davanti al monumento ai caduti del mare all'ingresso della banchina a sud del porto, è stata celebrata una messa in ricordo di tutti coloro che hanno perso la vita in mare. Lorenzo e Giorgio Serafini, padre e figlio, sono fra le vittime, ricordate con grande commozione da Concetta Di Paolo e Anna Maria Serafini, rispettivamente moglie, madre e figlia e sorella dei due uomini morti in un incidente avvenuto nel 1995 a Giulianova. Giorgio Serafini, madre e figlia e sorella dei due uomini morti in un incidente avvenuto nel 1995 a Giulianova.